Infine il mare. L'onda della canteristica navale attrae il mercato internazionale verso le marche, leader nel mondo in questo settore. Yacht e mega yacht di preziosità e dal calibro stilistico unici nel loro genere. La realizzazione dei sogni passa attraverso una lunga filiera che coinvolge le produzioni d'eccellenza del mobile e dell'arredo, dell'elettronica, del tessile, dell'idrosanitario. L'altissima qualità e la cura per il particolare sono caratteristiche principali di un settore sempre più traino di innovazione. E il viaggio nelle marche è appena iniziato. L'altissima qualità e la cura per il particolare è appena iniziato. Grazie.